Noi siamo qua per scappare alle spalle degli italiani Evviva la figa Perfetto Non si vede perché in Italia ci debbano essere alcune decine di migliaia di persone Gay, gay Campano alle spalle del prossimo Pessimo, pessimo Perché in Lombardia Noi diamo 400 euro a trans Io sentivo parlare di solidarietà e di accoglienza Bene Chi se ne frega del lavoro Chi se ne frega dei lavoratori Chi se ne frega dei nostri figli 200 milioni di euro Questo è il mio stipendio Che è una cosa da quarto mondo Io sono qui a non fare un cazzo Dentro il pomeriggio arriva un sondaggio fatto al volo da Cosa Nostra Gli italiani non si impiccino